San Giusto, 25 aprile, siamo stati informati. Ma cosa sta succedendo? In comune? Una corona, una corona in comune. Ah beh, certo, l'hanno capito tutti che la democrazia qui ormai è terminata. Ma chi l'avrà mai depositata? Andiamo a vedere bene da vicino cosa sta succedendo. No, vediamo un po'. Sì, è proprio così. Ma chi l'avrà mai messa questa corona? Vediamo un po' il comune. Ma allora è destinata al comune? Potrebbe darsi. Qualcuno forse si è stufato. E qua sotto cosa c'è? Vediamo ancora, vediamo ancora una confezione più piccola. Per chi sarà questa confezione? Beh, non importa, il senso è sempre quello. A testimonianza stiamo filmando perché poi, chissà, troveranno anche il modo di negare che sia successo anche questo. Da San Giusto Cannavese, un saluto a tutti e appuntamento alla prossima puntata. Il comune forse defunto. Ciao a tutti!